Tribune elettorali, un cordiale saluto dalla sede RAI del Veneto. Oggi la seconda tribuna delle liste che si presentano alle elezioni amministrative del Comune di Venezia, fissate per il 20 e 21 settembre anche in altri 40 comuni veneti. Ricordiamo che si voterà inoltre per eleggere il Presidente del Veneto, il Consiglio regionale e per il referendum popolare confermativo in materia di riduzione del numero dei parlamentari. A Venezia 18 liste a sostegno di 9 candidati sindaco. Primo ospite in studio è Pierangelo Del Zotto che rappresenta il Partito dei Veneti. Del Zotto, chi sostenete come candidato sindaco? Ecco, noi come candidato sindaco sosteniamo il professor Stefano Zecchi, che credo tutti conosciate, perché abbiamo in progetto un'idea nuova per Venezia e crediamo che sia l'uomo giusto per portare avanti questa idea. L'idea giusta qual è? Perché poi la curiosità... Sì, l'idea giusta è che dopo 30 anni di un certo timbro di gestione della città e dopo altri 5 anni che avrebbero dovuto cambiare questo timbro, ma in realtà l'hanno peggiorato, noi abbiamo come visione la possibilità che Venezia, e quando io dico Venezia parlo di Venezia, parlo anche di Mestre ovviamente, per uscire dal malinteso, Venezia Mestre, Marghera, Zellarino eccetera. Noi abbiamo una visione che vede Venezia capitale d'Europa, capitale artistica, capitale culturale e Mestre che diventi finalmente una città con la stessa dignità, dico sempre, di Treviso, di Belluno, di Vicenza, di Verona eccetera eccetera. In questo momento Mestre è, come dico, l'appendice sfigata di una città sfigata. Sono entrambe città apparentemente diverse, ma che in realtà hanno le stesse problematiche. C'è un problema di funzioni da definire e attribuire meglio? Assolutamente sì, ma se non si ha una visione che può essere anche magari scambiata per folle non si va da nessuna parte. 100 anni fa qualcuno ha avuto la visione di Porto Marghera per sottrarre la città di Venezia da una morte segnata. Oggi sappiamo che poi forse non era quella la strada giusta, ma lo sappiamo dopo. Comunque qualche disegno particolare in passato è già successo. Quindi noi davanti al, ripeto, 30 anni di gestione che ha portato Venezia in questa condizione e davanti agli altri 5, per i quali io all'epoca mi ero adoperato per poter cambiare il destino della città, però abbiamo visto che anche gli altri 5 hanno continuato verso il declino. E quando dico declino, dico declino di Venezia che perde sicuramente abitanti, ma anche declino di Mestre che perde sicuramente abitanti. Obiettivi di così rilevante portata non erano forse perseguibili meglio con delle alleanze a livello elettorale. Le alleanze, noi siamo qua, sono gli altri che devo farle con noi. Quindi voi proponete questo, poi dite vediamo chi può convergere. Allora, ci viene chiesto noi al ballottaggio con chi da che parte staremo. La risposta del professor Zecchi è che sono gli altri che devono decidere da che parte stare con noi. Quindi gli altri quando avranno, se poi noi non ci capiterà di partecipare alla finale, noi faremo opposizione comunque sia per questi che per gli altri. Quindi questo è il ruolo che avete identificato per il partito dei Veneti e per il professor Zecchi nei prossimi anni. Sì, io sono capolista della lista, ecco il professore ci sentiamo quotidianamente e condividiamo, io a noi 36 della lista e il professore condividiamo questa visione, ultima possibilità per salvare Venezia e ripeto quando dico Venezia dico Venezia dico anche Mestre perché Mestre sta soffrendo al pari di Venezia, tanto è vero che gli abitanti carono di qua e carono di là, la qualità della vita è peggiorata. Non avevamo la medaglia di essere la città prima per droga, per spaccio di droga in Italia, non ce l'avevamo cinque anni fa, ce l'abbiamo oggi e questo non è assolutamente un merito della giunta che sta uscendo. Un flash finale, comunque vada, servono terapie forti subito per invertire la tendenza? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi stiamo vivendo la seconda morte a Venezia dopo quella di Thomas Mann di cento anni fa. Qui bisogna fare presto e subito, soprattutto avere delle idee, avere delle idee che possono anche essere scambiate per visionarie, ma idee che siano assolutamente rivoluzionarie per una città che è delicatissima.